Roberto Amaio che era al Palio del Reciotto, basta il nome che subito gli appassionati del ciclismo rizzano le orecchie gara dedicata ai dilettanti, possiamo anche far partire, eccole qua, le immagini Albo d'oro prestigioso, ha vinto anche Moserna agli anni 70 ma quest'anno chi è che ha vinto? Sì, lo vediamo nelle immagini, dopo due anni di dominio straniero finalmente torna a vincere un italiano è Francesco Manuel Buongiorno della Opla che ha preceduto il veronese Davide Formolo qui vediamo appunto lo sprint a due con cui si è decisa la corsa mentre al terzo posto è quello che arriva Daniele Dalloste della Trevigiani l'hai detto tu, Palio del Reciotto è una guerra importante, ben si sono comportate anche le squadre bergamasche abbiamo visto Fabio Aru tagliare il traguardo al quarto posto viene la Palazzago quindi con Aru e il bielorusso Bazzco settimo mentre la Colpac che qui vediamo nelle immagini ha piazzato al sesto posto Zillioli e dal nono Senni in particolare Colpac e Palazzago ci sono fatte vedere anche nelle fughe inizio giornata la prima si è avuta già al chilometro 18 uomini importanti, nel frattempo vediamo anche la Cenevale Seriana altra squadra bergamasca al via tra i 146 corridori partenti tra l'altro 146 partenti scusate, 146 chilometri e 168 partenti ne sono arrivati solo 37 in una gara davvero molto dura molto dura e subito presa con intraprendenza ai corridori qui vediamo la prima fuga in testa al gruppetto c'è proprio il bergamasco Davide Vidella seguito da Tonelli, della Zalfa, il francese Dumont e l'altro bergamasco Mattia Cattaneo poi sono rimasti soli Villella e il francese ma per loro nulla da fare nuovo tentativo, due uomini trevigiani, Scartezzini e il bergamasco Barbin con Conti della Palazzago e Masnada della Colpac ma anche questo tentativo non ha avuto successo il gruppo si è rifatto sotto gara che si è poi decisa sull'ultima salita quella di Corrubbio dove appunto Formolo e Buongiorno hanno preso il largo in un primo momento con loro era rimasto anche dall'oste poi nel tratto più duro della salita si è staccato e alla fine l'abbiamo visto nello sprint a due la vittoria che ha premiato Buongiorno tra l'altro Formolo che è arrivato secondo poveretto, abita anche lì a due passi quasi si, lui correva praticamente in casa e di Marano Valpolicella il percorso passava anche dal suo paese quindi ci teneva in modo particolare a far bene si, aveva vinto quindi Buongiorno nonostante c'era stato, aveva avuto qualche problema una caduta, qualche dolore al polso questo quanto aveva dichiarato alla fine della corsa e un terzo posto appunto di Dall'Oster grazie a tutti